Quel giorno la guerra aveva perso il suo orrore. Era di primo marzo. Un campo di cardi già levava alti sui rigidi steli, alcuni dei suoi indecifrabili fiori bianchi e bruni. Cominciavano ad arrossare e a farsi lucenti. Le gemme dei radi ornelli e le ulivelle si attentavano qua e là ad aprire un poco le loro corolle. Sono esse regine di questi monti. E ciò mostra che è poi un nome femminile a tutelarne i brulli e petrosi dossi. Audaci e schive al tempo stesso, piene di grazie e di flessibile forza, sono le prime a fiorire. O piuttosto schiudono appena i calici e restano lungamente in attesa, parendo sonnecchiare. In realtà guatano con i loro bocciuoli, come con occhi tra palpebre socchiuse, l'avvento della vera primavera.